ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato a voi che state guardando ebbene sì un'altra puntatella della rubrica reaction ai vostri video cioè alle vostre collezioni di orologi che esponete sempre in maniera così è corretta mai quasi mai che però ci piace ugualmente cioè ci piace vedere la varia umanità che ci circondano tutti appassionati di orologi ma ognuno a modo suo ognuno con i propri orologi ognuno con i propri gusti perlomeno ci si prova perché poi è facile rimanere influenzati io stesso rimango influenzato dal marketing da altre persone che indossano orologi è normale ma anche persone sconosciute no è normale fa parte del gioco però poi il punto forte è saper discernere tra ciò che veramente ci interessa e ciò che è solamente un fuoco fatuo no nel momento in cui uno vede l'orologio indossato da una persona magari in una discoteca vedi quell'orologio e ti piace ma cos'è ma cos'è cosa non è poi da lì dal primo innamoramento a volerlo veramente ci deve essere anche dietro un minimo di studio non dico di sfogliare i libroni sfogliare i libroni anzi a proposito di libroni fermi tutti vi vado a prendere una cosa devo ringraziare l'amico francesco sarà è che un cognome un programma sarà sarà che mi ha spedito regalato eccolo qua buona lettura francesco sarà follower un amico del canale mi ha spedito questo bellissimo libricino del 2001 2001 dell'omega devil cioè appena è uscito l'omega devil come quello che ho io e ci ha spiegato tutta la collezione devil con il coaxial simpaticamente con il coaxial con tutti gli orologi che sono usciti in quel 2001 cioè guardate che bello la spiegazione del coaxial e ho scoperto anche orologi guardate qua questo qua è il famosissimo bracciale armadillo che ho io in collezione praticamente c'è anche il mio orologino c'è spiegato la collezione devil eccoli qua ve li vedete il mio bracciale omega devil con il bracciale armadillo il calibro 2500 corsiale il primo nel 2001 e ringrazio francesco sarà che mi ha inviato questo bellissimo opuscolo che ha trovato in una ex concessionaria e ha pensato a me e me l'ha inviato gratuitamente come regalo e io veramente lo ringrazio e questo sta anche a dimostrare ora questo qua omega no costoso ma è una parte del piacere di avere gli orologi cioè i libri no gli opuscoli le riviste i cataloghi e non serve avere l'omega devil da 3.000 4.000 euro per avere piacere nell'avere un libro che parla di lui nel momento in cui è uscito basterebbe anche un 6.5 del 77 hai bene riuscire a trovare un libro un catalogo di quell'anno dove c'è il tuo orologio dove c'è spiegato dove veniva presentato no anche se costa 100 euro l'orologio il piacere di avere quel cataloghino è lo stesso di avere quello dell'omega riferito all'omega che si possiede e così vale per tutti gli orologi a parte quelli nuovi che uno compra oggi del 2024 quello non può non può esistere questo però è bello degli orologi vintage o neo vintage no anche se io non sono sempre disposto a spendere soldi nei vintage però questo è uno di quei casi nei quali un libricino ti può rendere felice basta poco però mi è piaciuto mi è piaciuto grazie francesco adesso stiamo andando per le lunghe la scimmietta che qua la vedi non gliene frega niente del libro la scimmietta la scimmietta vuole vedere gli orologi hai capito il libro lei fa così ci fa le palline e poi le lancia le lancia per dispetto finché ti non gli fai vedere gli orologi allora piglia la nocciolina fa così e guarda gli orologi funziona così quindi bando ai discorsi inutili l'orologio del giorno questo bellissimo viller vetta dyna wind 39 mm di diametro cassa calibro selite sv200 leggibilità ottima corona che si carica che è un piacere io qua c'ero con il cinturino realizzato dall'amico john q straps che è un nato single pass in pelle veramente è veramente per l'estate nel momento nel quale tu ti riposi alla sera che voglia di qualcosa di leggero questo orologio e questo cinturino nato single pass sono la perfezione fatemeli fare anche voi così poi fai anche il ripreso vabbè dai tornando per le lunghe guardiamo subito il video che sennò voi vi offendete se non vedete i video fuoco alle polveri ciao davide mi chiamo kira e spesso mi capita di guardare i tuoi video la domenica mattina mentre faccio colazione con mio marito che ti segue con grande passione e ti ha già inviato un video un po di tempo fa siccome comunque donne che ti inviano video non ne ho ancora viste e sono qui per farti vedere la mia misera collezione di orologi se così si può chiamare e fare quindi una sorpresa a mio marito dai facciamogli la sorpresa bando alle ciance e cominciamo da questo michael kors che magari riterrai una una ciofeca però l'ho preso quando ci siamo sposati in baggi nozze a new york undici anni fa avevo vent'anni è molto pesante e sinceramente è fermo non lo indosso più però quando lo indossavo mi sentivo molto powerful powerful usando le mani secondo orologio è un seico automatico davvero molto piccolino anche gli altri due che vedrete sono molto piccolini perché mi piace abbinarli a tanti bracciali brava quindi non mi piace che siano grandi i bracciali con gli oro sullo stesso polso degli orologi non andrebbero indossati perché poi vanno contro la cassa gli fanno il danno questo qua poi è placatissimo d'oro tutto placato i graffi loro lo splaccano come si suol dire è sconsigliato anche questo sinceramente non non lo indosso più perché non lo so ogni tanto sfarfalla rimane indietro sfarfalla non lo so mi innerbiosisce quindi devo dire che non lo indosso più e farlo sistemare per quanto riguarda questo terzo orologio lo so ti prego sarà per te una grande ciofeca ma io l'odore di seconda mano pagato veramente tipo 15 euro però mi piace tantissimo la forma che c'ha e che è appunto lunga rettangolare lunga rettangolare piccolina perfetta per i miei soliti bracciali da abbinare e io un polso piccolino e sono proprio anche piccolina di ristratura quindi questo per me è perfetto va bene ti piace la forma di quell'orologio lì rettangolare piccolino no un bijou come si suol dire però ci sono un sacco di marchi che fanno orologi di forma rettangolare insomma che ha anche senso avere un gas è veramente un orologio da profumeria come si suol dire no di quelli che vai mi compro un deodorante poi un dopo barba o guarda c'è anche un togli i calli e poi c'è il gas lì ha pronto ad essere preso insomma un bellongino un oris ci sono degli orologi rettangolari che ti danno anche la soddisfazione di indossare qualcosa al polso no di bello di buono gli orologi non servono sono soddisfazioni che ci vogliamo togliere uno sfizio e se ci dobbiamo togliere uno sfizio che almeno togliamocelo con un po di qualità no insomma consapevoli che ci faccia stare bene ultimo questo regalo inaspettato dal marito desiderato arrivato a maggio per il nostro anniversario di matrimonio e preso da domenici questo stupendo mido automatico bellissimo ah ce l'ho al contrario e che dire il quadrante di questo colore verde sembra menta c'era anche rosa ma l'ho scelto verde sempre piccolino anche questo lo amo veramente alla follia tantissimo sono molto felice vi ringrazio di avermi ascoltata della di tutto quello che insomma di fai per noi di video eccetera davvero molto interessanti grazie e ti ringrazio davide e alla prossima alla prossima ci vediamo presto ciao chi era brava brava oh finalmente ti do un 5 finalmente mi tolgo la soddisfazione di dare un 5 a qualcuno no un'insufficienza dai mi hai fatto vedere un gas un michael kors un secco 5 che non funziona che sfarfalla secondo te sfarfalla non so farlo sistemare non so pure un secco 5 vabbè però è peccato cioè buttarlo via farlo sistemare magari con poco cioè un orologiaio si mette anche la mano sul cuore sulla coscienza e prende ti chiede in base a quello che vale anche l'orologio è chiaro che se vai a cambiare la maglia ad un rolex allora dice oh furbone devo la maglia 10 euro vai a cambiare la maglia vai a accorciare bracciale a un secco 5 capace che ti dice tieni vai via ti do qualcosa io povero hai capito quindi secco 5 magari ti chiede poco per sistemarlo e poi il mido quello lì ti ha sollevato dal 4 perché sono 4 invece con un mido sei arrivato al 5 fa piacere quando mi mandano ora non mi parlerai più per questo 5 però io me ne faccio una ragione e vedremo di risolverlo in qualche modo va bene prossimo video ciao davide ciao michele da massa in assoluto ti faccio i complimenti del canale mi sono appassionato all'orogeria da qualche anno e ti faccio vedere la collezione mia e in parte di mia moglie ma allora parto con un orologio russo o racchetta o pacchetta calendario perpetuo che abbiamo fatto sostituire il cinturino da poco e lo uso come everyday watch vada ce l'avevo anch'io quell'orologio lì ce l'avevo con loro era un color vinaccia veramente brutto me l'aveva regalato un tuo concittadino un massese si vede proprio che a massa andate pazzi per questi orologi qua racchetta con il calendario completo che tra l'altro mi sembra finisce fino al 2000 quindi è anche fuori tempo massimo brutto è brutto brutto andiamo avanti un longin automatico questo lo usa prevalentemente mia moglie cassa d'oro anche questo abbiamo fatto la cava del cinturino pochi il suo era particolarmente sciupato è tenuto un ottimo stato alla data cassa oro fondello in acciaio è placato so che sei un appassionato di longin spero che ti piaccia se c'è un fondello in acciaio è placato non è cassa oro andando avanti in ordine abbiamo un provita 25 rubini anche questo trovato regalato diciamo da mio nonno anche questo fondello in acciaio non lo uso praticamente mai è tenuto in maniera abbastanza discreta avrebbe bisogno di una piccola revisioncina però lo mettiamolo in cassaforte è un ricordo dai bravo andando avanti bravo masseso un eberhard questo mi fu regalato dai miei nonni per la prima comunione tanta roba questo anche questo cassa in oro fondello oro e quindi l'evento questo è anche questo è stato fatto sostituire il cinturino un eberhard automatico tenuto molto bene ma certo complimenti questo è bello passando ai pezzi un pochino più pesanti andiamo su un the just questo di mia moglie top cassa d'oro bianco numeri romani oro bianco tenuto in condizioni di questo che perfette questo se non erro dovrebbe essere intorno agli anni 80 barra 90 ma è oro giallo non è oro bianco cassa oro bianco è detto cioè sono dal tonico io io vedo vedo l'oro giallo è molto piccolo come calibro infatti appunto lo usa sempre lei come diametro non come calibro andando avanti con i pezzi abbiamo un the just lady the just sempre di mia moglie bello top preso in concessionario qualche anno fa acciaio simpatico da passando oltre abbiamo un tudor black bay 58 bravo un roggio stupendo certo tenuto in condizioni perfette bravo ci piace questo blu qua passando ancora oltre abbiamo un vintagino cos'è così mio the just a colexi con lo sfondo appunto con i tapestri sullo sfondo non so se si riesce a vedere giubile in condizioni anche questo ottimale revisionato da poco tutti dei just poi passando oltre abbiamo un rolex milia bravo tiene preso poco prima della sua uscita dal mercato uscita di produzione anche questo tenuto in maniera pressoché eccellente bravo e come ultimo acquisto in ordine di tempo abbiamo un rolex gmt gonfia top ma lavorazione color blu e nero preso a listino circa un 20 25 giorni fa e con questo appunto è finita la collezione di orologi meno male ti ringrazio ancora del canale e dei contenuti che pubblichi e spero che riuscire a pubblicare anche il mio video un abbraccio un abbraccio un abbraccio bravo masseso bravo o quel fanto hai fatto c'è una bella collezione un bel sette e mezzo sette e mezzo stavo perdere sette poi quando mi hai detto che il batman il gmt l'hai preso a listino 20 giorni fa finalmente si trovano i rolex a listino di nuovo in negozio e quindi ti ho aumentato un mezzo punto decimale 5 punti 0,5 ok quindi sette e mezzo tutti i belli un po fissatino con i rolex anche lì cioè tre day just un milgaus un gmt cioè con tutti quei soldi di che speso uno dice ma perché non vai a battere anche da altre parti cioè anche un pochino farmi vedere no delle robine farmi vedere che sei interessato agli orologi in generale non ai rolex perché un po un po anzi ti do sette boom leviamo sette e mezzo sette perché perché sono tutti i rolex sette ho metto le tue levato i 5 5 10 metri le levati mi spiace può essere anche di massa tenevo altri 5 6,5 basta 6,5 voto perché dovete sapere che massa sarebbe la l'uscita equivalente a carrara sud sull'autostrada no c'è carrara e poi carrara sud che si arriva a massa funziona così prossimo video ciao davide ciao a tutti della community sono giulio dalla spezia però bezzo in nuova zelanda quando questo video da okland okland vabbè però sei di spezia questo me lo devo ricordare dopo per darti il voto perché ci abbiamo avuto un massese e uno spezzino proprio carrara e mezzo e cosa devo fare io gli devo dare un po di meno voto meno voto al massese e meno voto lo spezzino non è che posso campanilismo e parto subito con la mia piccola collezione vai e partiamo da questo diciamo leggendario seiko skx 009 bravo questo è un orologio che ha l'x factor io lo chiamo così perché è tutto quello che desidera da un orologio anche i suoi punti deboli me lo fanno apprezzare come quando hai un figlio che magari fa fatica fa più fatica degli altri però è la cosa che te lo fa amare di più quindi io amo questo seiko skx e mi dà tante tante soddisfazioni belle sensazioni successivamente saliamo un po bello questo mi piace questo e ho questo seiko 147 diciamo già la versione nuova diciamo non mi convince il basil che secondo me seiko qui ha fatto un lavoro incredibile con questo basil non in alluminio non in ceramica si discosta da tutti gli altri orologi e questo colore caffè questo caffè questo io amo il caffè io sono proprio un amante del caffè ho lavorato tanti anni con il caffè e questo seiko mi dà proprio una sensazione di caldo una sensazione di casa quando lo indosso è come quando bevo il primo caffè del mattino mi mi fa stare bene ti senti aspetti colori caldi questo crema questo guilt questi indici le sfere mi piace anche a me non lo so a una a qualcosa che mi fa stare bene il ho comprato questo diciamo il caociu non mi non mi aggrada tanto e ho comprato questo questo bracciale che diciamo ha una finitura molto simile alla cassa non troppo lucida satinata e questo me lo fa apprezzare bravo comunque una piccola diciamo introspezione che vorrei condividere e sul fatto del possedere di quanto prendere e vendere e cambiare orologi mi abbia fatto capire la sensazione del possesso e di quanto un desiderio in realtà sia solamente mentale e quindi anche diventare padroni del proprio desiderio della scimmietta che va bene accontentarla però continuare a essere padroni di questa scimmietta semplici oggetti mi hanno fatto capire tanto rispetto a questa sensazione del possesso ti ringrazio sei un presentatore molto consapevole molto aware si dice in inglese consapevole e mi piace tanto mi piace da ascoltare e sei una bella persona va bene grazie di tutto e complimenti grazie grazie dopo che ti darò mezzo voto in meno perché sei spezzino non sarò più una bella persona fate vedere due orologi un secco un secco skx e un secco spb 147 che a me mi piace tanto non è che sto tanto lì a fare discorsi il caffè crema a casa la mattina cioè è bello è un bell'orologio ma ti do però ti do un sei e mezzo ti do sei e mezzo per la scarsità per la scarsità di contenuti due orologi vabbè e poi perché sei spezzino mezzo punto o meno ma e poi insomma se anche un pochino filosofico è insomma a certo punto veniva la voglia di oh e basta però la consapevolezza dell'acquisto perché il possesso e lo sappiamo che c'è il piacere del possesso perché sennò non si collezionerebbero le cose no c'è che colleziona i franco bolli e per possederli cioè per possederli per studiarli e poi per possederli lo studio finalizzato al possesso altrimenti si può anche studiare virtualmente però insomma da va bene due belli orologi so che dirti due secco d'altronde sei a oakland lì vabbè prossimo video ciao davide ciao andiamo questo video dalla splendida calabria dove si è la mia compagna e ci siamo portati dietro con noi questo citizen promaster bravo e che dire dall'acqua salutiamo con un ecco preferivo lei bravo in mezzo minuto quanto dura niente senza valutazione anzi finalmente posso dare un 3 tv un voto e 33 perché non è un video senza senso ci ha fatto vedere le belle acque della calabria il promaster nella sua nel suo ambiente naturale però voglio anche dire una cosa perché siamo tutti capaci di portare gli orologi che costano 200 euro 100 euro 300 euro al mare a fare il bagno io voglio vedere le persone che ci portano come faccio io l'omegacy master il long jean legend diver long jean skin diver il mido ocean star sono orologi che vanno dei 1.600 euro gli orologi portateci gli orologi veri al mare cioè gli orologi costosi fatevi dire che utilizzate era sfida ma datemi video i vostri video al mare con l'orologio con l'orologio costoso per costoso si intende sopra 900 mille euro insomma orologi non più da 200 3 voto 3 ciao davide sono stefano il medico scherzone ricorderai senz'altro bravo allora non potevo farmi sfuggire questa ghiotta occasione ovvero quella di farmi valutare tramite una votazione la mia collezione anche perché questa crescerebbe sicuramente il valore della stessa oltre le varie certificazioni la tua valutazione farebbe senz'altro la differenza allora cominciamo rapidamente ripasso mi rassegna più velocemente possibile emilton trent rolex the just simpatico questo quervo i sovrinos quervo i sovrinos historiador tradizione tradizione bravo e che voto ti do cartier ballon blu un po brutto però vabbè cartier rado golden horse bravo questo ci piace tanto poi king seiko seiko della linea presage presa sulla pronuncia sei sicuramente più ferrato te presage bella questa colorazione per l'ace del quadrante per l'ace gmt della christopher ward silander questo orologio qua proprio ho avuto l'occasione oggi pomeriggio di averlo per le mani ce l'aveva un farmacista di genova che saluto che ho conosciuto che aveva questo questo orologio qua con il quadrante un po blu un po sbaccato era forse quel quadrante lì però era questo qua simpatico così fatto bene molto fatto bene rado captain cook crono cinturinato bravo lungi legend diver che tu ben conosci certo blu è questo o è nero mi sembrava blu tagoyer acqua razor bravo rosso così ci piace ecco da voi che ti domini sento i begli orologi acqua time della iwc ok particolare questo non lo sceglie mai nessuno però mi piace da tenere in considerazione acqua timer come lo scrivo acqua timer crono della emilton modello pilot pioneer aviation yungans yungans chronoscope longin longin oh bello questo ultracron questo bel compresso anno 1969 tanto roba perfetta bello questo non mi ricordavo questo ma boh ah mi piace rolex submariner submariner date è un classico c'erano tutti eberart tazio nuvolari libera con cinturino tropic gg le cutre verso 2 face qua non sto dare top ragazzo splendido mi sarete accorti che in questo video qua non do i top perché breghiera naval type xx o xx 20 type 20 xx 20 numeri romani bright l'incronomat acciaio d'oro cosa vuoi che ti dico io ragazzo sì che si è un orologico omega fiamma se reduce acciaio d'oro anche questo bello 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 acciaio oro mi piace omega constellation niente si può dire qualcosa qui manca una casella a casa farò vedere l'orologio che attualmente è in service lo aggiungerò a fine filmato allora caro davide spero che ti piaccia la mia raccolta e che diciamo abbia una valutazione neutrale imparziale onesta e soprattutto alta scherzo ovviamente un caro saluto a te ea tutti gli amici del canale ciao a presto ciao cos'è l'ultimo ed infine completamente la mia raccolta vi presento l'orologio che appena tornato dal service ovvero un omega c master gmt cinquantesimo anniversario di nuovo un caro saluto davide un caro saluto ora vedi mi cogli un pochino così in fallo come diceva cecciolina perché mi chiedi il voto no consapevole anch'io sono consapevole che il mio voto timi ti migliora la ti qualifica la la collezione no cioè se mi metti così sulle spine poi dopo io mi sono influenzato dalla tua richiesta però io devo dire la verità devo essere sincero dai mi loco gli occhiali devo essere sincero è una collezione da 9 non possiamo andare più oltre a 9 9 ti do 9 soprattutto perché a parte sono tutti orologi di qualità no ma quello che mi piace quello che mi piace di questa collezione è che sono presenti tutti i marchi tutti i marchi più importanti più apprezzati più appetibili cioè a differenza dell'amico di massa non masseso prima che c'aveva tre day just gmt e il migaos 55 rolex 5 rolex più i vintage qua abbiamo una voglia un interesse ad esplorare tanti campi no ivc breguet jlc omega rolex ci vuole anche un rolex per diversificare però non mi ricordo meno rado emilton c'hai tutti i marchi interessanti importanti ce li hai quindi magari mi faccio influenzare dalla tua richiesta di voto e di voto alto però io ho un 9 ragazzi poi ditemelo anche voi a me mi sembra di doverlo premiare uno che spende tutti questi soldoni e butta la passione diversificando andando a scegliere uno una volta uno una volta l'altro una volta quest'altro i soldi ce li hai amico mio questo poco mi assicuro però uno che c'è la disponibilità economica come la tua potrebbe andare nella banalità e comprarsi cinque rolex e cinque omega e poi dire ma eccoli qua i miei roloci però vuol dire non c'è niente di male anch'io sono un fanboy omega no più ce n'è meglio è però la capacità di andare no a cercare un panerai un panerai non ce l'hai non c'è il panerai il cartier ce l'hai il cartier ce l'hai il panerai ti manca interessante come orologio potrebbe essere panerai dai 9 9 se sei contento bene dovessi vendere ora sappi che se dovessi vendere un orologio per ogni orologio che orologio che vendi il 10 per cento mi viene a me in quanto lo certificati con un voto alto ciao davide sono lorenzo ciao regiato il primo video a novembre 2023 con la collezione che avevo appena iniziato praticamente da dall'inizio del 2023 questi due pezzi c'erano giagli e già visti manca dei just con un quadrante blu scanalato da 36 full acciaio che ho venduto e ho deciso di prendere questo bello top ho fatto praticamente in condizioni eccellenti bello mi piace dal 2018 fuori produzione che adoro anche rispetto alla nuova referenza che ha le scritte bianche questo con le scritte dorate sono veramente stupende secondo me ci stanno molto molto meglio e questo quadrante con questi riflessi lo trovo veramente particolare rispetto anche alla nuova referenza ti aggiornerò con i nuovi acquisti ciao davide ciao ciao un abbraccione un abbraccione è un video cortissimo d'altronde ci ha fatto vedere il suo nuovo acquisto che va ad infilarsi tra il brightening e il quervo e sovrinos un rolex sul mariner acciaio e oro ghiera quadrante blu è bello è cioè bello ti do il top tutto quello che vuoi io però non lo comprerei no credo che ce la farei ce la farei invece a prendere il mi piace mi piace lo yacht master acciaio e oro da 40 mm acciaio e oro quello mi piace però insomma non c'è il quadrante blu e la ghiera blu così già vistoso acciaio e oro no poi anche il colorato però cavoli belle il trittico è un trittico di orologio a quel punto lì che sono che un pochino pochini cosa vuoi che ti do un sette guarda ti do un sette ti do un sette per quel trittico lì che è di valore brightening anche qua anche qua volendo no uno ha venduto ha venduto un rolex per prendere un altro quando avrebbe potuto fare la svorragine vendo il brightening e quello sovrinos e poi prendo un altro rolex così ho due rolex no per riempirti la bocca con la parola rolex invece no è venduto il rolex per prendere un altro e questo ti fa anche quasi onore diciamo la verità cioè perlomeno hai il mio appoggio capito va bene dai ragazzi abbiamo fatto sei video anche un corte alcuni però sempre sei sono e quindi io devo andare a vedere i gattini su instagram e non è che posso qua intrattenermi con voi più di tanto io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e chiaramente vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love iscriviti al canale